E' stata una partita di carattere dei miei compagni di squadra perché al proprio tempo li abbiamo chiusi proprio nettamente, però poi ti ritrovi sotto 2 a 0 su due punizioni e loro comunque sia, tanti li conosciamo, insomma quando non è al completo sono una squadra che secondo me potrebbero benissimo giocarsi il campionato, però ecco come è sottolineato tu, questa squadra c'è soltanto carattere, sotto 2 a 0 siamo tranquillizzati, abbiamo rimesso la palla per terra e alla fine l'abbiamo provolta come sempre. L'anno scorso noi siamo passati come terzi, alla fine abbiamo vinto il campionato, quindi noi vogliamo crescere come squadra, se poi arriviamo secondi, arriviamo prima, arriviamo terzi, l'importante è entrare in quel quartetto, diciamo, quinto tempo, quello che sia per potersi andare a giocare come l'anno scorso lo scudetto.